Parchi abbandonati, periferie in balia di balordi, quartieri dove cittadini denunciano mattanze di animali, torturati e uccisi, sospetti giri di droga e pedofili, opere pubbliche e cantieri aggrediti da vandali e nuovi barbari. Una città ridotta allo sbando, che soprattutto dopo gli ultimi incresciosi episodi di cronaca, verificatisi a Piazza Kennedy, invoca maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine e invita i vigili urbani ad aprire gli occhi sulle già stringate oasi di Avellino, che invece di relax e divertimento offrono l'altra guancia a sempre più preoccupanti fenomeni delinquenziali. Ne è consapevole il comandante della Polizia Municipale di Avellino, Michele Arbonio, che ha approfitto dell'argomento per lanciare un significativo SOS alle istituzioni e alla città. Il personale dei vigili urbani, mai come in questo periodo, è ridotto all'osso, impossibilitato a garantire la doverosa attenzione e controllo alla città, soprattutto di notte. Le telecamere sono attive. L'unico aspetto sul quale dobbiamo adesso riflettere è sul servizio notturno. La Polizia Municipale non svolge servizio notturno, se non quello di vigilare la caserma. Quindi su questo stiamo verificando. Naturalmente sarebbe stato tutto molto semplice farlo nell'immediatezza, ma noi scontiamo una gravissima carenza di personale che anche su questo l'amministrazione si sta facendo carico per l'assunzione di nuovi vigili. Perché effettivamente con un organico così ristretto su due turni di servizio, più il servizio notturno in caserma, più quello del tribunale e altri ancora servizi fissi a cui dobbiamo sottostare, crea un grave disservizio, noi di questo ce ne rendiamo conto, e di fatti la videosorveglianza per noi rappresenta una grande mano. Quante unità mancano per raggiungere quantomeno la normalità dell'assunzione? Le unità ne mancano tante, siamo almeno alla metà dell'organico. Tenga conto che ad Avellino non si assume forse da 10 anni, da 15 anni, 20 anni, non so quando. È veramente molto grave la carenza di personale qui in Capolupo di provincia. Però dobbiamo fare i conti con una norma sempre più restrittiva e con il patto di stabilità e quant'altro che ha bloccato di fatto le assunzioni nella pubblica amministrazione e in particolare nella Polizia Municipale. L'assorbimento dei provinciali sembra ormai concluso, che non ha riguardato la città di Avellino. Quindi io spero veramente che quando prima possiamo incrementare la vigilanza, perché abbiamo personale ridotto all'osso, abbiamo poi personale che comunque ha ormai 30 anni di servizio e quindi io spero veramente, mi auguro veramente per me e anche per la città soprattutto, che possiamo incrementare il personale. Perché solo così riusciremo a fare servizi mirati, dedicati, oltre a quelli della viabilità. Grazie a tutti.